CMC recinzioni, recinzioni modulari, recinzioni di grigliati metallici, griglia pavimento, cancelli, San Giovanni Lupatotto, Verona. CMC recinzioni, azienda specializzata nel settore della carpenteria metallica, recinzioni modulari standard, inferriate, parapetti, scale e balconi. I vent'anni di esperienza nel settore della carpenteria metallica hanno portato CMC a raffinare le tecniche di costruzione dei prodotti e l'uso dei materiali, perfezionando la capacità di durata nel tempo con conseguente risparmio sulla manutenzione. Progettiamo recinzioni metalliche modulari standard e personalizzate, recinzioni in grigliato, cancelli pedonali, cancelli carrai e scorrevoli, inferriate e porti inferriate, nicchie gas, enel e acqua. CMC propone inoltre una vasta gamma di recinzioni per ville, abitazioni e locali, realizzabili con vari sistemi di assemblaggio adattabili a qualsiasi esigenza. CMC opera nel settore da vent'anni e si distingue per essere un'azienda moderna e dinamica, che opera in tutto il nord e centro Italia. CMC vi offre esperienza, maturata come azienda leader nel settore dei cancelli e delle recinzioni. CMC vi offre tecnici altamente qualificati, che rispondono a qualsiasi vostro dubbio e vi propongono quanto di meglio la tecnica e l'innovazione vi possa mettere oggi a disposizione. La ditta CMC recinzioni dal 2010 si pone sul mercato edile con prodotti innovativi e di grande utilità. Ingressi pedonali. Produce ingressi pedonali prefabbricati in calcestruzzo armato per edifici residenziali e industriali per Verona e provincia. Gli ingressi realizzati dalla ditta CMC recinzioni sono in cemento armato, dimensionati, certificati e collaudati secondo le normative. Reti metalliche. CMC commercializza reti elettrosaldate. Le reti sono realizzate con fili, a zincatura regolare o forte, disposti in senso verticale ed orizzontale. Hanno dati tra loro conferendo un grado di rigidezza e robustezza non riscontrabile per altre tipologie di rete. CMC si conferma nella qualità dei suoi prodotti, in particolare delle porte basculanti per garage, in acciaio, alluminio e legno. Oltre alle porte per garage, CMC offre una ampia gamma di porte tagliacuoco, multiuso, porte per cantina, serrande, cancelletti estensibili. CMC recinzioni offre supporto e assistenza dalla fornitura alla posa in opera. San Giovanni Lupatotto, Verona, via Montefiorino 1, telefono 045 87 53 346 Vieni a visitare tutta la vasta gamma di prodotti sul nostro sito web www.cmcrecinzioni.com 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 www.cmcrecinzoni.com